Professor Massimo Galli, direttore della malattia infettiva dell'ospedale Sacco di Milano. Allora, buonasera anche al professor Crisanti, professore di microbiologia dell'Università di Padova. Buonasera, professore Santamoli. Allora, intanto volevo fare una domanda. Si accomodi lì, professore. Anche lei straordinariamente a Roma stasera. La maschegna se la portò. Tra l'altro vi siete vaccinati tutti e due, no? Sì, a me saluto. Professor Galli. Ciao. Allora, intanto lei quanto la preoccupa una possibile crisi di governo anche a lei? Dal punto di vista, oltre che politico, anche della gestione della pandemia. Un vuoto di potere in un momento particolarmente delicato, perché stiamo iniziando il programma di vaccinazione e in più esistono ancora numerose incertezze per quanto riguarda tutte le misure di controllo. Quindi naturalmente non l'auspica in nessun modo da questo punto di vista. Adesso mi fa una domanda politica. Io rispondo, io non l'auspico perché siamo in un momento di grande incertezza. Senta, professor Galli, ieri il Presidente del Consiglio ha detto che ci aspettano tempi peggiori. Nel senso che comunque andremo a salire ancora di nuovo con i contagi come sta accadendo negli altri paesi europei. Ha ragione? Le previsioni sono queste? Mi pare che i numeri dicano questo. Quindi ci può... E questo è maledettamente preoccupante. E chi ha responsabilità politica nel nostro paese ci gioca sopra come se non fosse una cosa importante. Ma lei... Pazienza... Professore, ma... Almeno io personalmente credo di non aver voglia di commentare discussioni che saranno anche su argomenti importanti, per carità, ma che non tengono in conto che in questo momento ci sarebbe da occuparsi in maniera specifica e diretta di questo e di non molto altro. I ragazzi hanno tutte le ragioni del mondo, ma resta il fatto che la scuola, piaccia o non piaccia, per il movimento che induce, è uno dei serbatoi importanti della diffusione di questa infezione. L'infezione cammina sulle gambe delle persone e camminando sulle gambe delle persone si giova dei momenti di aggregazione con numerose persone assieme. Certamente non è solo la scuola, ma sicuramente non eravamo e non siamo in condizioni, nel momento che si sta vivendo, con gli ospedali che cominciano a riavere i malati nel pronto soccorso, di andare a prendere questo come problema prioritario. Altrimenti si fa della pura demagogia. Ecco, però allora scusi, lo chiedo anche al professor Crisanti. Come mai i dati dicono dell'Istituto Superiore di Sanità, se non sbaglio, che i contagi sono cresciuti con l'apertura delle scuole solo per il 2%? Guardi, io... Che sono dati sbagliati? Guardi, non è che i dati sbagliati sono... Lei condivide intanto. Guardi, io... Non si deve discutere in questo momento di possibile riapertura delle scuole. Guardi, io penso che il vero problema, e su questo mi trovo in accordo col collega professor Galli, è che non abbiamo dati certi per capire come la scuola impatta sul contagio. Non è stato mai fatto un campionamento in diverse regioni d'Italia, in diverse scuole, per capire se effettivamente c'è trasmissione. Sai che significa fare un campionamento? Significa prendere una scuola e fare il tampone a tutti. Magari anche rapido, che va bene. E così perlomeno abbiamo un'idea dell'incidenza giornaliera per scuole, per settore, per classe. E che vediamo come la mobilità impatta. Cioè, noi riapriremo le scuole al buio, se le riapriremo. E quindi di fatto è un rischio. Ogni cosa che non si sa comporta un rischio. E sicuramente le scuole sono un momento di aggregazione. Non sappiamo ancora se nella classe veramente esistono le condizioni ideali. Perché si parla di un metro, un metro e mezzo, ma nessuno sa effettivamente come la distanza un metro, un metro e mezzo impatta. Mascherine sì, mascherine no. Esiste ancora tantissima confusione durante la ricreazione, quando fanno merenda. Tutte occasioni per trasmettere. Ora, guardi, la scuola penso che sia un diritto fondamentale. E' un paese che ha tenuto più chiuse le scuole rispetto a tutti gli altri stati europei, che pure sono stati toccati anche un po' con i contagi. E vabbè, ma guardi quello che sta succedendo in Inghilterra, che ha tenuto aperto le scuole fino a tre settimane fa. Beh, tutto un po' ha tenuto aperto l'Inghilterra. Sì, anche la Germania. Guardi quello che sta succedendo in Germania. Quindi anche lei è d'accordo col professor Galli che in questo momento non se ne può parlare proprio di questi veri e per le scuole. Io penso che se noi oggi avessimo dei dati sulla trasmissione delle scuole, noi potremmo dire sì, è un rischio accettabile o non è un rischio accettabile. E questo è il problema. E il problema è non avere i dati. Il problema è il problema. Senta, professor Galli, ma secondo lei, visto che domani si voterà comunque, Renzi ha detto che loro questo lo sosterranno senz'altro, la proroga è stata emergenza fino al 31 luglio, con il nuovo divisione di regioni giallo, rossa, arancione. Sono misure troppo tenere, cioè dovremmo andare verso un lockdown più deciso, come quello che auspica, che però auspica sempre, devo dire, insomma delle misure molto, in questo senso, definitive, il consigliere del ministro della Salute Ricciardi, oppure va bene tornare al regime precedente a quello natalizio? Guardi, quello che è successo è che l'andamento multicolore delle regioni nel Paese chiaramente non ha portato al risultato desiderato, o perlomeno non ha portato a risultati desiderati l'interruzione troppo precoce, il passaggio troppo precoce da uno Stato all'altro. Poi ci sono regioni che siamo sempre state gialle e che in questo momento sono in condizioni peggiori delle altre dal punto di vista della ripresa di malattia, voglio dire, o meglio, della mancata vera flessione della stessa. Io non so che farci, non mi diverto a constatare insieme ad altri colleghi come Andrea Crisanti che le cose non stanno andando bene, ma è quello che sta capitando, dopodiché naturalmente domani ci sarà il solito coro di quelli che ci danno dei terroristi, e dateci dei terroristi, però insomma gli ospedali sono da vedere in condizioni che potrebbero essere di nuovo di crisi e quando gli ospedali vanno in crisi da questo punto di vista ricordiamoci che non viene curato come deve essere curato tutto il resto, cosa piuttosto importante e di nuovo abbiamo a fare con le terribili classifiche. Tra l'altro permettetemi anche di dire una cosa sulla questione dei morti, sono tanti, tantissimi, è una cosa spaventosa vederne tanti, ma vi posso dire che non è vero che abbiamo più morti degli altri paesi in proporzione, semplicemente se li calcoliamo su un denominatore che è incompleto, perché manca probabilmente più di un milione di infettati della prima ora al denominatore dei morti, se lei prende le infezioni che abbiamo avuto dal primo di settembre a oggi, infezioni documentate e ovviamente molti li abbiamo anche perse, abbiamo il 2.1 di letalità che è esattamente uguale a quello tedesco. Per cui quando ragioniamo sulle cose è anche abbastanza elementare guardare, sono numerelli, sono numeri drammatici, ma dal punto di vista non ci sono le equazioni differenziali da mettere su questa cosa. C'è semplicemente da fare due conti da aritmetica. I nostri morti dal settembre adesso sono, con un vasto denominatore di tamponi fatti e quindi di infezioni trovate, quelli della Germania. Se invece ci mettiamo quelli della prima leva, abbiamo fatto 220.000 tamponi, abbiamo avuto 29.000 morti, abbiamo avuto il 13,5% di letalità e per forza morti su malati gravi o gravissimi come denominatore sotto. È evidente che ti viene un tasso di letalità spaventoso. Questo è quello che è successo. Quindi anche su questo abbiamo dei conti fatti male fino adesso, o comunque delle cose non dette chiare alla gente, che forse magari potrà anche aver pensato che le persone sono state curate male. Si è fatto tutto quello che si è potuto con i mezzi che ci sono stati. Vabbè, certo, quello naturalmente lo sappiamo che ognuno si è speso come ha potuto, ma purtroppo poi la situazione nel nostro paese è stata sia nel primo lockdown che anche nel secondo, nella seconda cosiddetta seconda fase, ma siamo già entrati nella terza. Perché io poi tutte queste differenze, prima, seconda, terza, cioè... Adesso perché si parla della terza? Non siamo ancora nella seconda. La terza ondata, cioè una cosa c'è di differente rispetto a quella di un mese fa? Mi sembra assolutamente la stessa. Guardi, questo sistema che gli inglesi chiamano di stop and go ci porta in questa situazione necessariamente di fluttuazioni. Perché? Perché poi di fatto questi parametri non sono parametri che calcolano il tasso di diffusione del virus in tempo reale, ma purtroppo calcolano quello che è accaduto diversi giorni prima. E quindi di fatto, quando diventa rossa una regione, già ha accumulato tantissimi casi che deve sbaltire. E quindi per forza di cose si va in questa situazione di ondate, riprese, ondate, che sicuramente non fa bene. E poi, mi permetta, e forse non so se è stato già affrontato prima questo problema, ma sicuramente questa cosa non fa bene né per quello che riguarda poi il vaccino. Perché noi adesso stiamo affrontando anche il problema di tutte le varianti. Ma pensi un attimo alla cosiddetta variante inglese, che sicuramente ha un tasso di riproduzione di contagiosità più alto. Ok. Nessuno finora si è preoccupato che cosa significa questo in termini di vaccini. Se noi passiamo ad un taggio di contagiosità... Il vaccino è comunque efficace rispetto a quella variante, non è vero secondo lei? No, sì, è efficace, sicuramente è efficace. Però cambia una cosa molto importante, perché noi passiamo con un R0 di 2.6 a un'immunità di gregge al 73%. Se cambia al 3.4, l'immunità di gregge deve essere di quasi l'85%. Ora guardi, l'85% è elevatissimo, perché se lei pensa che c'è un vaccino che dà una protezione del 90%, quante persone deve immunizzare per avere il 90% il 100% della popolazione? Se vuoi raggiungere l'85% deve immunizzare quasi il 93-94% della popolazione, che significa che c'è un'implicazione politica importantissima, che bisogna rendere obbligatorio. Quindi queste varianti hanno un impatto anche sulla gestione, e poi c'è anche un altro aspetto, mi permetta, che noi stiamo vaccinando in presenza di un elevatissimo livello di trasmissione. Si generano varianti, creiamo una pressione selettiva che favorisce potenzialmente varianti resistenti al vaccino. Non si dovrebbe far così. E quindi cosa bisognerebbe fare? Guardi, bisognerebbe diminuire la trasmissione, cercare di vaccinare quante più persone possibile, in più breve tempo possibile. Ecco, allora, intanto, professore, è d'accordo con quello che ha detto il professor Crisanti? E poi, aspetti, le voglio chiedere un'altra cosa, la voglio chiedere a tutte e due, ma qui stiamo parlando di vaccinare, la vedo che sorride, perché? Perché siamo d'accordissimo, perché sono diversi giorni che dico che ci vorrebbero due, tre settimane, teoricamente, di lockdown totale in cui vengono vaccinati tutti gli italiani che si possono vaccinare. Per farlo però bisogna avere l'organizzazione per farlo, il vaccino disponibile, e bisogna anche tenere conto del fatto che non so se tre settimane di lockdown totale le reggiamo dal punto di vista economico. Quindi siamo continuamente a rincorrere la nostra coda, ma dal punto di vista tecnico, verosimilmente, quella è la soluzione. E non è che io e Andrea ci siamo parlati, ci siamo arrivati indipendentemente e lo stiamo dichiarando in giro negli ultimi giorni. No, guardi, io penso... Però scusate, posso chiedervi una cosa, ma qui stiamo parlando, lei dice che bisogna vaccinare la maggior parte della proporzione, ma non ce l'abbiamo i vaccini, cioè senza l'approvazione del vaccino AstraZeneca, l'Italia ha qualche possibilità davvero di immunizzare oltre... No, però voglio capirlo da voi. Beh, guardi, il fatto che AstraZeneca abbia fatto una non conformità, poi chiamiamone col vero 9, perché nessuno l'ha mai detto finora... Qual è la non conformità? La non conformità è che loro pensavano di immunizzare con una dose piena, invece hanno immunizzato con mezza dose. E' quella la non conformità. E quindi di fatto tutto il trial è saltato. E' molto grave questa cosa. Accipicchias è molto grave, perché a quel punto se tu fai una conformità di quel tipo, chi ti dice che poi ha fatto bene tutto il resto? Cioè, è una questione di principio in termini di qualità. una non conformità in un trial lo fa crollare. Allora, professor Galli, però, come mai questo AstraZeneca, con questa non conformità così grave, come dice il professor Crisanti, in Gran Bretagna è stato autorizzato e da noi invece non se ne parla? Perché, non so se sei capito, in Gran Bretagna sono conciati malissimo, alla canna del gas, 50.000 casi al giorno. La variante nuova che sta facendo molto bene il suo lavoro ecco, forse loro sì potrebbero parlare di terza ondata, legata proprio al fatto di avere questa nuova variante diventato stradominante, che ha cambiato anche la marcia della situazione. Però è una questione così di parole, è una questione semantica. Quel che conta è che sono messi in maniera tale che ne fanno anche un'altra di non conformità. stanno proponendo di dare una sola dose dello Pfizer e aspettare di fare la seconda a tempi migliori per vedere di dare almeno una dose a più gente possibile, che è questa cosa, è una cosa su cui non abbiamo nessuna informazione, se non ce la daranno loro dopo averlo sperimentato in Corpo Revili, cioè dopo aver fatto questa cosa nella popolazione tirando fuori dei dati, ma in maniera del tutto fuori da ogni regola scientifica, voglio dire fuori di ogni regola formale, perché il dato scientifico lo potranno dedurre ugualmente. Ma il concetto di fondo è che hai sperimentato una cosa in una maniera e per motivi di emergenza la stai dando in un'altra. Hai avuto una non conformità grave per quanto riguarda AstraZeneca e nonostante tutto dici che va bene così, perché la situazione è una situazione pesante, è una situazione drammatica là. Noi di casi ne abbiamo meno della metà al giorno di quelli che compaiono in Gran Bretagna, però siamo di nuovo in crescita e la cosa preoccupa per ovvi motivi. E poi facciamo anche cose divertenti. Oggi ho dovuto, insomma, un po' alzare la voce, ma tanto, finché oggi è una giornata così, non sono di buon umore, si capisce. Una delle cose che non mi ha messo di buon umore... Perché il professore Pisanti l'ha fatta sorridere però prima. Eh, vabbè, ma perché con lui mi trovo sempre... Ha detto che siete raccordi su tutto, va. Mi trovo sempre a trovarmi... Vabbè, ma insomma, deriva dallo studiare le cose questo accordo, in buona sostanza. Così come stiamo cercando di mettere, di proporre, di sostenere che si metta in piedi un sistema di rilevazione serio delle nuove mutazioni che possono comparire. Ma questa è un'altra cosa, ne volevo dire un'altra. In Italia abbiamo 2 milioni e 200, 2 milioni e 300 mila persone che l'infezione se la sono fatta. La gran parte è guarita, più di 70 mila sono morti, alcuni sono ancora in ballo, ma l'infezione se la sono fatta. Secondo lei ha senso che si vaccinino adesso quelli che sono guariti dall'infezione? Non ha nessun senso, ma nessuno si prende la responsabilità di dirlo. Queste persone devono essere ovviamente considerate nel tempo, bisognerà vedere come sarà la loro risposta immunitaria tra un po' di tempo, ma sono milioni che in questo momento non vanno vaccinati. Eh, ma scusi, professore... Vanno vaccinati dopo, eventualmente. Certo, però per capirci... Però, viva la faccia, qualcuno bisogna che lo dica. Certo, ma lei quando... Perché, ad esempio, nei nostri ospedali si stanno vaccinando anche quelli del personale che l'infezione hanno già fatta. Ma ha tolto la domanda. E questo, secondo me, non è appropriato. Anche perché, guarda caso, anche su questo non c'è uno straccio di dato scientifico. Allora, uno ha avuto l'infezione, decidi di rivaccinarlo, fai un trial, vai a vedere se questa cosa la puoi fare o non la puoi fare. Merita ad essere fatto oppure no, e poi lo vaccini, casomai. Ma non così. Perché nessuno vuole prendersi la grana di dire a uno che non vuole essere... che vuole essere vaccinato comunque un'altra a tutti i costi anche se l'infezione l'ha fatta. No, a te non te la facciamo perché non ha senso e perché non è previsto da nessun protocollo internazionale. Quindi lei si riferisce soprattutto, diciamo, al personale medico-infermieristico perché sono quelli che finiranno... 2 milioni e 200 mila italiani che non andranno rivaccinati subito. Certo, ma io questo lo capisco, ma in questo momento stanno vaccinando solo il personale medico. Non è che è arrivato a qualcun altro il vaccino. No, no, certo. Molti medici e molti infermieri si sono infettati nel tempo. Certo, quindi a quelli si riferisce in questo momento. Ma non vanno rivaccinati adesso. Esattamente. Non era opportuno che fossero rivaccinati in questo momento. Sicuramente il fatto che si rivaccinino persone che si sono infettate di nuovo non c'è nessun dato che indica se queste persone sono più a rischio o meno a rischio di effetti collaterali, per esempio. Cioè si fa una cosa che non è stata prevista dal protocollo sperimentale che ha portato all'autorizzazione del vaccino. Ora, auspicabilmente quando si passerà su larga fascia della popolazione teoricamente non dovrebbero essere vaccinati. Ma non scordiamoci che nella prima ondata noi abbiamo perso un milione e passe di persone infette e quindi teoricamente uno dovrebbe testare prima le persone e vedere se c'ha gli anticorpi se c'ha gli anticorpi non fai il vaccino. Non fai il vaccino. Senta però, professore lei prima ha detto che è sbagliatissima questa proposta che io però oggi ho letto fatta anche da medici italiani non solamente inglesi di aspettare più tempo tra la somministrazione della prima dose o della seconda oppure di procedere in un primo momento solo con la somministrazione della prima dose perché questo abbasserebbe comunque il livello dei contagi pur non creando un'immunità come può essere l'arrivo della seconda dose. Qui dobbiamo metterci d'accordo su una cosa. È una teoria quindi tutta da rigettare questa. Guardi, dobbiamo metterci d'accordo su una cosa. Se vogliamo prendere sul serio i trial e la sperimentazione che ha portato all'approvazione se la prendiamo sul serio dobbiamo fare esattamente quello che è stato fatto nel trial. Non possiamo noi fare esperimenti perché altrimenti facciamo una cosa che non è autorizzata. Guardi che l'autorizzazione è un processo formale estremamente rigoroso e altrimenti la gente ma che pensa ma che l'abbiamo fatta a fare il processo d'autorizzazione se poi uno fa come gli pare. Certo. Cioè si fa una cosa di cui non sappiamo l'effetto su larga scala per di più. Cioè questo è un doppio salto mortale abbiamo approvato un vaccino in emergenza quindi sicuramente è un vaccino autorizzato non approvato in emergenza quindi con delle procedure che ne giustificano l'uso in condizioni di emergenza dopodiché una volta autorizzato cambiamo pure il protocollo cioè non si può fare questa cosa è rischioso non è che non si può non esiste proprio è come se lei guardi è come se lei prendesse una medicina per i mal di testa e la usa per prevenire l'infarto è sbagliato. Allora scusate intanto voglio farvi vedere questo servizio perché siamo andati un po' a vedere che cosa tutti e due vi siete vaccinati già sì prima dose ancora prima dose sì come è andato tutto bene? sì io sì sto bene non è successo niente non è successo niente neanche lei professor Galli nessuna ma io un quarto d'ora l'ho detto mille volte un quarto d'ora dopo la vaccinazione non mi ricordavo su quale braccio l'avevo fatta quindi tutto a posto e quindi devo dire francamente che non mi ha dato nessunissimo fastidio addirittura meno della vaccinazione anti-influenzale che comunque a me dà forse qualche ora di insomma che se premo sul braccio sento un po' di dolore ma questa volta neanche quello neanche quello allora andiamo invece a sentire perché ancora c'è ci sono anche i vostri colleghi che comunque sono un po' scettici all'idea di cioè chi se l'è fatto pur avendo avuto la malattia e magari poteva lasciarla a qualcun altro e chi invece è ancora un po' scettico e poi ci sono anche quelli che nonostante abbiamo detto che l'Italia è stata tra i primissimi paesi nella somministrazione del vaccino quindi questa cosa almeno finora ha funzionato però ci sono state anche lunghe filie per esempio in Campania professor Galli prima il professor Crisanti ci ha detto che soprattutto riguardo a questa variante inglese che ormai quanto ha preso piede da noi questa variante inglese da noi è ancora esporadico ma è vero che in Veneto per esempio è molto diffuso assolutamente no l'ha detto l'altro giorno però il presidente ha detto che gli è arrivata una telefonata proprio alla vigilia di Natale anzi il giorno della vigilia di Natale per dirgli che causa di questi forti contagi era soprattutto il problema è che adesso i politici vogliono diventare anche genetisti ecco questo ma non l'ha detto lui gliel'ha detto qualcuno del settore allora guardi per dire che una variante crea un problema bisogna dimostrare che nel tempo questa variante sostituisce le altre e questo non è accaduto quindi da noi non c'è questo ci sono dei casi sporadici però non si può dire che siamo allo stesso livello della grande professore secondo lei comunque a parte il fatto che il vaccino non ce l'abbiamo prima di dire tanto che deve essere obbligatorio dovremmo essere nelle condizioni di poterlo somministrare alla maggior parte della popolazione quando accadrà non avendo io la sfera di cristallo e non avendo io nessuna possibilità o capacità di negoziazione sull'arrivo dei vari contingenti di vaccino non posso dirle che non lo so voglio dire altro che non lo so il punto è un punto serio ovviamente quello dell'approvvigionamento su cui credo si stia lavorando seriamente in tutti i paesi del mondo credo che alla fin dei conti da un certo punto in poi ci sarà anche se non c'è già stata qualche competizione per arrivare ad avere le dosi necessarie per una copertura però non siamo noi né io né Andrea Crisanti le persone a cui può chiedere se le avremo queste dosi oppure no noi speriamo molto di sì ma non siamo noi ad avere mani in pasta per poter ottenere questo voglio dire forse lo dovrebbe essere di più un governo nel pieno dei suoi poteri magari e in una situazione in cui ci sia un pochino meno di maretta anche dal punto di vista politico si fa più bella figura in Europa o nelle negoziazioni internazionali se ovviamente ci si presenta in un certo modo e non con il rischio di passare per l'armata Brancaleone ecco professor Crisanti però qui mi sembra che è molto lontana l'ipotesi in cui la maggior parte della popolazione potrà essere coperta al di là dell'obbligo non obbligo da queste famose due iniezioni che devono avvenire a quanto tempo ma dalle 3 alle 5 settimane però questo sono per Pfizer magari è un'unica somministrazione gli altri hanno altri protocolli ma guardi sicuramente il numero di vaccini che è stato fatto adesso che sicuramente l'Italia ha fatto uno sforzo per utilizzarli tutti però diciamo è stata fatta la parte più facile c'è personale medico sanitario in strutture che avevano la logistica per mantenere i vaccini in queste condizioni di ultrafreddo la parte più difficile sarà quando da distribuire questo vaccino in posti difficili da raggiungere in posti remoti dove non esiste tutta la catena del freddo che permetterà la distribuzione questo indipendentemente dalle consegne perché le consegne sempre se sarà quello della Pfizer che distribuiremo sempre se sarà quello della Pfizer perché chiaramente queste sono cose che lei deve chiedere da Tarkuri a noi poveracci che obiettivamente di quello che facciamo non possiamo fare esatto senta professor Galli comunque prima di chiudere volevo chiedere prima Crisanti ha detto dovrebbe essere a questo punto obbligatorio lei condivide questa posizione sempre sperando ad avercela naturalmente non mi risulta che uno che è un membro dell'esercito della marina o dell'aviazione se gli dicono che deve fare delle vaccinazioni perché deve andare in missione perché deve fare delle cose si possa rifiutare di farle cambia mestiere chi sta nell'ambito delle attività di assistenza e ha la responsabilità di non portare ai propri pazienti elementi di rischio nel momento in cui è proposta una vaccinazione la fa o cambia mestiere questa è la la mia ferma idea in proposito cioè non possiamo su questa cosa metterci ad apprendere delle posizioni indulgenti nei confronti dei recalcitranti per motivi più che altro oltretutto ideologici o di affermata libertà personale ricordiamo che nell'RSA questa malattia l'hanno portata oggettivamente e inconsapevolmente e anche innocentemente per carità ma l'hanno portata al personale che si infettava fuori nella sua vita di relazione e poi andava a lavorare portando l'infezione questo è quello che è successo e c'è stata una strage di vecchi questo è stato io sono anche io un vecchio quindi non è dispregiativo il termine voglio dire no gli anziani se ne sono andati come mosche anche per questo motivo all'interno dell'RSA cioè perché qualcuno bisognava pure che la portasse dentro l'infezione e non sono stati i parenti perché i parenti quasi subito sono stati lasciati fuori è stato il personale quindi fuori dai denti chi non vuole fare determinate cose non è idoneo alla mansione però non solo tra i medici diciamo che poi come dire questo riguarderà poi la maggior parte ma io sono convinta che molti sarebbero molto contenti di farselo questo caso Correnzi sono d'accordo col fatto che bisogna vaccinare assolutamente il personale della scuola perché questo è un altro punto estremamente importante anche perché io continuo a non avere il bene di sapere come stanno i dati riguardanti le scuole quello che mi arriva da ambienti sindacali in particolare a Milano e per quanto riguarda scuole materne e comunque nidi di infanzia e di un esercito di infettati tra il personale è vero non è vero non lo sappiamo vorremmo sapere questi dati allora professor Crisanti siamo in chiusura mi dica no dico dico al di là del personale medico ma guardi io stavo dicendo sicuramente l'Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di vaccinazioni e questo penso farà ben sperare che ci sia una adesione di massa poi guardi io sono dell'idea che le persone possono decidere di non vaccinarsi per molti motivi uno potrebbe essere per motivi religiosi un altro potrebbe essere perché c'ha paura un altro per condivisioni ideologiche beh ci sono molte di queste persone possono essere convinte quindi io non bollerei immediatamente uno subito tu sei un novax dice prima vediamo anche perché come dice lei ecco perché molte persone ci sono sicuramente persone che hanno posizioni irragionevoli però confrontarsi e polarizzare non è il modo giusto per convincere le persone possibili comunque speriamo insomma di poterlo avere a disposizione prima possibile in quantità insufficienza non siamo noi che dobbiamo rispondere di questo perché poi così a quel punto è l'unico modo in questo momento per cercare di uscirne da qui a sei o otto mesi questo è il problema che si vorrà fra qualche mese fra 4-5 mesi ci vorremo il problema dove siamo a questo punto in termini di vaccinazioni qual è lo sforzo aggiuntivo e cosa dobbiamo fare per raggiungerlo allora grazie al professor Galli ancora ci scusi per averla fatta aspettare grazie al professor Andrea Crisanti per essere stati con noi grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri feld